Si tratta di un libro molto bello, molto importante, che testimonia il valore di Flavio Caroli per la cultura non solo milanese, ma di Milano in campo internazionale. È un panorama eccezionale, di un acuto osservatore e naturalmente la bellezza del libro è che è un chiaroscuro, cioè fa vedere luci e ombre dell'arte.